Buongiorno a tutti, innanzitutto un'informazione di servizio, domani la rassegna stampa sarà alle 9 e non alle 7 e mezza, così come domenica e poi riprenderemo invece da lunedì alle 7 e mezza. Ed eccoci per la rassegna stampa di oggi che è venerdì 3 luglio 2020, di nuovo i rapporti all'interno del governo la fanno da padrone, il decreto semplificazione, ma adesso anche la legge elettorale, poi le ipotesi sulle regionali con la spinta di Conte ieri alleanze tra PD e Movimento 5 Stelle, vedremo tutto e partirei dal proprio decreto semplificazione perché è molto legato al fatto che c'è stato ieri l'incontro tra il presidente del Consiglio e il segretario del PD Zingaretti, ma il Corriere della Sera per esempio la mette così a pagina 5. Nell'articolo di Enrico Marro, eterno rinvio sulle semplificazioni, i veti su appalti e abuso d'ufficio, Italia Viva dice no a norme per raggi e appendino e c'è lite sull'affidamento di letto dei lavori. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, poi se andiamo per esempio sulla stampa, la stampa pagina 4 tratta la questione e lo fa con un articolo di Giuseppe Salvaggiulo, semplificazioni, l'ANAC avvisa il governo pericoloso affidarsi ai commissari, vedremo dopo un capitolo sul tema dell'ANAC e delle relazioni ieri annuali del presidente. Ma ancora sul tema delle semplificazioni vediamo un giornale di opposizione, anche se vedremo anche su questo, sta inclinando un po' i rapporti nell'opposizione, le parole di Berlusconi di ieri che abbiamo letto a proposito della possibilità di un governo di unità nazionale, però in questo caso comunque sul decreto semplificazioni il giornale ne parla a pagina 2, del decreto semplificazioni rimane una scatola semi vuota, marcia indietro sul condono, fibrillazioni sugli appalti, alle imprese il decreto legge non piace ma chiedono di fare presto, questo è quello che ci dice il giornale. Andiamo avanti, c'è anche il messaggero da segnalare, pagina 2, Conte tregua con il PD ma sulle semplificazioni il Consiglio dei Ministri è ancora rinviato, l'incontro con Zingaretti dura un'ora, adesso dobbiamo correre sui dossier e poi un messaggio 5 stelle sconfitta per tutti e andare divisa alle urne ma questo lo vedremo dopo. Insomma quindi il tema qual è? Si saranno pure incontrati Conte e Zingaretti, ci sarà pure un clima diverso del governo ma concludiamo con il Sole 24 ore che in prima pagina dice sull'abuso d'ufficio c'è l'intesa ma è ancora lite sulle grandi opere, tema che poi viene ripreso nella pagina 2, accordo sull'abuso d'ufficio ancora lite sulle grandi opere, preconsiglio fiume, molti progressi sul testo ma il decreto legge slitta a lunedì, l'attenzione resta sugli affidamenti senza gare sulle procedure in deroga per lavori sopra i 5 milioni e Bonomi, il Presidente Confindustria che dice il confronto sia rapido il governo lo vari al più presto, ecco qua questa è la situazione per quanto riguarda il decreto semplificazioni. Poi vorrevo segnalarvi un argomento pure importante che è trattato oggi praticamente solo da Repubblica però Repubblica gli dà molto spazio, sono la prima pagina e poi le pagine a seguire fino alla 4 e addirittura poi lo vedremo nel commento di Boeri a pagina 26 ed è il lavoro, il conto del virus lo pagano i più giovani, l'Istat fotografa il dramma degli under 25 dopo la pandemia, la disoccupazione sarà al 23,5%, cancellati in un anno 600 mila contratti a termine e nel mondo 1 su 6 ha perso il posto e il tema dei contratti a termine è un tema molto delicato ma vediamo ancora sulla pagina 2 di Repubblica è Marco Patucchi che firma quest'articolo, generazione covid i giovani pagano la crisi, a maggio il tasso di disoccupazione sotto i 25 anni sale al 23,5%, giù i contratti a termine nel mese 65 mila donne perdono il lavoro, la commissione UE corre ai ripari con un piano e poi ci sono a pagina 3 le storie di vari ragazzi insomma sotto i 25 anni che hanno perso il lavoro e a pagina 4 la rete bucata dei centri per l'impiego che costa 1,5 miliardi e qui si torna al tema anche molto vicino al reddito di cittadinanza, le risorse ci sono ma la riforma di Maio non funziona, il Catalfo la corregge, intanto le regioni vanno in ordine sparso sulle politiche attive per il lavoro e Valentina Conte che ci parla di questo nella pagina 4 e a questo punto però andiamo a vedere direttamente Tito Boeri sulla Repubblica pagina 27, il titolo del suo editoriale è salvare il lavoro dei giovani, chi paga il prezzo della pandemia e fa riferimento giusto ai dati ieri dell'occupazione che dice che possono essere letti in modi diversi, i dati sull'occupazione e i disoccupati resi pubblici ieri dall'Istat ci dicono quale sia l'altra faccia della medaglia del blocco dei licenziamenti in vicore fino a metà agosto, concentra le riduzioni nell'occupazione interamente sui più giovani e conclude dopo aver fatto tutta una disamina Boeri, il governo e il Parlamento dovranno decidere a breve se estendere il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, costo circa 5 miliardi al mese, oltre metà agosto e se togliere un po' di burocrazia nel rinnovo dei contratti a tempo determinato. Bene che queste scelte difficili siano basate su informazioni più complete e aggiornate di quelle ricevute ieri, devono farci capire in che misura questi andamenti sono dovuti a variazione nelle assunzioni o nelle separazioni e cosa è successo dopo che diversi settori sono stati autorizzati a riapartire. Si è tornati ad assumere dal 18 maggio e dopo il 1 giugno? Quanti contratti a tempo determinato sono stati rinnovati alla scadenza dopo la fine del lockdown? Il Ministero del Lavoro ha questi dati in tempo reale perché li raccoglie giorno per giorno nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Ogni datore di lavoro deve infatti notificare al Ministero le assunzioni prima di procedere e deve comunicare ogni trasformazione contrattuale, ogni licenziamento, separazione consensuale, entro 5 giorni da quando hanno luogo. Si chiamano comunicazioni obbligatorie. Vorremmo che l'obbligatorietà nel comunicare fosse anche del Ministero. Questi dati sono un bene pubblico e così boeri sulla Repubblica a proposito del lavoro. Passiamo a un altro argomento e guardiamo più direttamente a qual è la situazione all'interno del governo. L'abbiamo visto, c'è stato ieri l'incontro tra Conte e Zingaretti, ce ne parlano un po' tutti i giornali, per esempio il Corriere della Sera la mette così, il regionale assist di Conte e Zingaretti sconfitta per tutti, no all'alleanza, l'incontro a Palazzo Chigi con il leader dei democratici, il capo del governo replica anche a Rutter, l'Italia ce la farà da sola. Questo argomento, poi seguiremo proprio un capitolo sulle regionali dopo, invece segnalo a pagina 9 del Corriere della Sera, ora il premier teme il fuoco amico, il segretario del PD io leale, ma a settembre si rischia. Ed è Monica Guerzoni e Maria Teresa Melli che firmano questo retroscena su Corriere della Sera, dice per il Nazareno va recuperato lo spirito unitario avuto durante l'emergenza Covid e a proposito della legge elettorale i Dem vorrebbero chiudere in fretta anche questa, ma come vedremo poi non è così sicura e si dice la richiesta del Presidente del Consiglio di finirla con i veti, il decreto semplificazioni, dobbiamo portarlo a casa. E questo è Massimo Franco, è la nota di Massimo Franco, una tregua interlocutoria con l'incognita del grillismo. Questo sul Corriere della Sera, se volete sulla stampa, è la pagina 2, quella subito dopo l'apertura della prima, faccia a faccia Conte e Zingaretti, bisogna correre, il decreto legge semplificazioni ancora non sono disfedem, il premier divide due partite dalle arzi alle regionali e a proposito di Conte dice il Covid con il piano di controllo siamo in condizione di affrontare con relativa tranquillità ai prossimi mesi, facciamo gli scongiuri e lo dico io, l'Italia ce la farà da sola e per questo che dobbiamo dimostrare il coraggio e tutta la nostra forza, a proposito delle parole di Rutter e poi mi auguro che le opzioni partecipino a questo piano di rilancio, lo stiamo facendo per i nostri figli e a proposito delle opposizioni vedremo poi nel capitolo, un capitolo che dedichiamo a centrodestra che le posizioni sono abbastanza asimmetriche nel centrodestra, il giornale di Sallusti e quindi vicino a Berlusconi la mette così, pagina 4, cade il tabù su Giuseppi ora non è più insostituibile, le ambizioni di Zingaretti e Di Maio su Palazzo Chigi d'incatteme non vorrei che il caldo tirasse brutti scherzi, questo è Augusto Menzolini che scrive sul giornale lascia intendere che il tema della possibile sostituzione di Conte è un tema all'ordine del giorno e non è un tema archiviato, tra l'altro si parla della profezia dell'azzurro chiuto, il governo cadrà tra dieci giorni, non c'è dubbio che le fibrillazioni a maggioranza e l'apertura di disponibilità che viene data da Berlusconi rendono molto fibrillante la situazione, Laura Cesaretti firma il suo retroscena sul giornale a pagina 5, trame, trucchi e chiarimenti, Conte pensa solo a resistere, vede Zingaretti e invoca un'alleanza PD, Movimento C, Questelle e anche le regionali, quelle veline per mettere in difficoltà i dem e a proposito di trappo nei confronti di Conte, la Cesaretti dice che il Nazareno procede sulla legge elettorale, mossa per evitare le urne. Questo è il giornale, nelle due pagine 4 e 5, ma andiamo avanti perché c'è anche il Tempo, a pagina 5, che invece la mette è così. Conte si aggrappa al CAV, il Premier in difficoltà con i numeri della maggioranza corteggia Forza Italia, sono i più responsabili, incontro di chiarimento con il segretario del PD Zingaretti sul decreto semplificazioni, tra noi c'è piena convergenza e questa è l'altra lettura che dà il Tempo e cioè che per mettersi al riparo Conte corteggia Berlusconi. Vediamo due commenti su questioni politiche, in particolare che riguardano il Presidente del Consiglio, più in generale la situazione all'interno della maggioranza, il primo è Marcello Sorgi, il titolo in prima pagina dell'analisi è Il governo e la sindrome di Rumor e ritorna a periodi che probabilmente non tutti conoscono, soprattutto i più giovani, comunque Rumor era un democristiano che era particolarmente noto per destreggiare e galleggiare, e tra l'altro scrive, scusate, Sorgi, nel PD sta montando una crescente insoddisfazione che potrebbe arrivare a mettere in discussione la scadenza del 2022 dell'elezione del Presidente della Repubblica come data limite per non rompere l'alleanza con il Movimento, questo perché giorno dopo giorno sta maturando tra i Democrat la convinzione che se si sono rivelati impossibili gli accordi per le regionali, aprendo la prospettiva di un capovolgimento in almeno 2, Marce e Puglia, delle 6 amministrazioni in gioco, un accordo per eleggere il successore di Mattarella con i 5 Stelle non si è affatto garantito, tutt'altro, sebbene Grillo si ostini a ribadire la non provvisorietà dell'intesa giallorossa, esiste il rischio che, in un colpo, approfittando dell'imprevedibilità delle votazioni per il Quirinale, Di Maio, Crimi e Soci se ne escano con un controribaltone pur di eleggere un capo dello Stato che in nessun modo risulti riconducibili al vecchio regime. Inoltre Conte e Movimento 5 Stelle continuano a nicchiare sulla legge elettorale proporzionale che il PD vorrebbe a tutti i costi approvare almeno in uno dei durami del Parlamento prima della pausa estiva perché è l'unica in grado di evitare la vittoria di Salvini e Meloni in caso di voto anticipato che a questo punto torna ad essere un'eventualità da non escludere. Il ritorno al proporzionale però al momento conviene ai 5 Stelle e forse al PD, ma certamente non a Renzi, il cui partito è molto in basso nei sondaggi e che solo dal mantenimento dell'attuale sistema parzialmente maggioritario potrebbe ricavare, grazie a un sacrificio che Zingaretti non ha alcuna voglia di fare, una rappresentanza parlamentare minima per continuare a restare in gioco, al punto che non sarebbe sorprendente se Conte e 5 Stelle si decidessero ad accontentare il PD proprio su questo terreno che Renzi faccia saltare il banco regalandoci di nuovo una crisi ad agosto. Questo è quello che dice tra l'altro Marcello Sorgi, ma a proposito del Presidente del Consiglio della maggioranza dell'azione del governo abbiamo il giornale con Sallusti in prima pagina, il titolo è sempre la solita propaganda, si fa riferimento alle cose che dice Sallusti vengono proclamate dalla maggioranza giallorossa e dice in queste ore per esempio sentire che il governo sta per abbassare del 20% l'IMU, la tassa sulle case di proprietà, ma non è così, almeno non è detto che sarà così perché una decisiva postilla poco pubblicizzata dice che il governo non impone ma concede ai comuni la possibilità di abbassare la tassa in questione e siccome i comuni hanno le casse vuote risulta difficile ipotizzare che ci sarà una corsa dei sindaci a cogliere l'opportunità. A dire il vero, se non ricordo male, questa norma è in realtà poi un emendamento della Lega, se non ricordo male, ma insomma. Altro esempio riguarda il bonus per ristrutturare le case del valore del 110% della spesa sostenuta, questa elargizione avviene sotto forma di rimborso fiscale alla prima dichiarazione dei redditi, non del proprietario che in effetti non sborza un euro, ma dell'impresa che svolge i lavori, la quale impresa già probabilmente in crisi di liquidità per anticipare tutti i costi deve rivolgersi evidentemente a una banca e lì inizia il noto calvario burocratico per ottenere un prestito in tempi certi, soprattutto se non metti sul tavolo una serie di infinita di garanzie. Esattamente come per il bonus vacanze, che non è di 500 euro per chiunque guadagni meno di 40.000 euro come strombazzato, per ottenere il quale il fruttore deve fare una lunga e complicata serie di passaggi e certificazioni che già scoraggiano in più. In ogni caso l'albergatore è l'albergatore a dover anticipare le spese che sostiene per rifarsi poi sul fisco a fine anno. Il risultato? Solo 4 albergatori su 100 si sono detti disponibili ad accettarlo, del resto con le tasse che già pagano, perché fare pure la bancomat per lo Stato? Tutto insomma sembra, conclude Sallustri, costruito in modo talmente complicato per scoraggiare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai terrorici vantaggi economici. L'unica cosa semplice sembra essere la propaganda. Lì questo governo è davvero bravo. E dire che tempo fa Mattarella, evidentemente inascoltato, disse la comunicazione istituzionale non va in alcun modo confusa con la propaganda politica e non può ridursi all'esaltazione a critica dell'attività delle singole amministrazioni. Si tratta di rendere un servizio ai cittadini e non di farsi pubblicità. E così Sallustri sul governo Conte e sulla propaganda, così come la chiama. Bene, allora, sulla maggioranza abbiamo visto i rapporti PD 5 Stelle, abbiamo visto l'incontro tra Zingaretti e Conte, passiamo ora al centro-destra perché sicuramente dominano in questo caso, ieri era Berlusconi al centro con la sua, diciamo, ancorché sfumata disponibilità fa parte di una maggioranza di un governo di vita nazionale e oggi invece sono Salvini e Meloni, in modo particolare, che vengono anche intervistati su più giornali. Vediamo subito il cortiere della sera, pagina 11, rispetto ai rapporti del centro-destra, che ci dice Forza Italia evoca un'altra maggioranza, Salvini, la via maestra e il voto, duello sul MES, la Lega è contro l'interesse nazionale e contro l'oggi agli azzurri, costruttivi e responsabili. Questo è quello che scrive il Corriere della Sera, Repubblica, a pagina 7, Ira di Salvini contro Berlusconi, Noa Inciuci c'è solo il voto, le reazioni all'intervista dell'ex premier di ieri, e poi questo è Carmelo Lopapa che poi si sigla questo articolo e che poi invece nel taglio basso firma questo. La Lega corteggia tre senatori grillini per il ribaltone, il leader del carroccio punta sui cambi di casacca per minare la maggioranza in Senato nel Milino, Pacifico, Drago e Crucioli, così la Repubblica. Ma la stampa invece parla di Salvini, ma lo intervista proprio e lo fa nella pagina 5, l'intervista che gli fa la media mattina, il titolo è da Conte con tutto il centrodestra, ma servono elezioni a settembre, tra l'altro le domande che, saltiamo ovviamente una serie di domande, la mattina gli dice veniamo al rapporto del governo opposizione, accetta l'invito del premier di un incontro a Palazzo Chigi, Conte ha detto che Forza Italia è un'opposizione responsabile, e Salvini risponde, e io sarei invece il responsabile? Abbiamo fatto 500 proposte su tutto, non c'è stato accolto nulla, più che dare voti all'opposizione, Conte dovrebbe garantire soldi alle imprese, ho ricevuto una mail da Conte che annuncia un prossimo incontro, non dice dove né quando, ma a me interessa sapere su cosa, noi andremo insieme a tutto il centrodestra e proporremo le nostre priorità per l'ennesima volta, domanda di una mattina a Berlusconi, però è pronto a una nuova maggioranza, magari senza i 5 stelle con il PD, e dice Salvini, io un governo col PD non lo faccio, la via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le regionali e le comunali, la parola agli italiani, un governo che litiga su tutto, immobile con i cantieri, fermi, è un danno al paese, ancora dice la mattina che spinge, si fida di Berlusconi? E risponde Salvini, l'ho sentito e mi ha detto che lui non sosterrà mai un governo nemico della proprietà privata, delle aziende, della partiteiva, Berlusconi è anche un uomo di azienda e mi ha assicurato che non fa governi pasticciati con forze politiche che sono a favore della decrescita felice, non segue le fantasie dei giornali, ancora la mattina alcuni senatori 5 stelle sono passati con la Lega e altri se ne annunciano, conferma, verrà meno la maggioranza al Senato, risponde Salvini, sto incontrando tanta gente, non è la Lega che li cerca, molti parlamentari mettono la loro dignità prima dello stipendio, erano stati eletti per fare la rivoluzione e ora si trovano al governo con Renzi, questo è quello che tra l'altro dice Salvini nell'intervista che la mattina fa sulla stampa. Ancora da segnalare il giornale a pagina 6, chiaramente vediamo anche qual è la posizione dei giornali del centro-destra, a pagina 6, Forza Italia e Rassicura Agliati, restiamo all'opposizione, il titolo, parentesi, forzato di Repubblica all'intervista di Berlusconi, all'arma, Lega e Fratelli d'Italia. Poi il chiarimento, questa è Anna Maria Greco sul giornale, ma anche Libero per esempio, come è tutto evidente, affronta la questione interna al centro-destra, lo fa a pagina 6 e dice, qui c'è un'intervista, qui iniziamo con le interviste alla Meloni, verso la manifestazione contro il governo domani, la Meloni, la mia casa è la destra, venite, con conto e rapporti cordiali, peccato solo sia un lupo travestivo da Agnello. Silvio Senatore sanerebbe un'ingiustizia, è Gianluca Mazzini che intervista Giorgia Meloni su Libero, a proposito del centro-destra, la manifestazione, i rapporti all'interno del centro-destra, ma la Meloni è intervistata anche sul messaggero a pagina 5 e il titolo è, in piazza per chiedere di andare al voto subito, la leader di Fratelli d'Italia è la peggiore crisi del dopoguerra e il governo sembra sulla luna. Berlusconi, le sue parole forzate, ma per noi l'unica via è una forte legittimazione popolare. Per chi è interessato, Barbara Iercov, questa è l'intervista alla Meloni che tra l'altro dice che un candidato tecnico per Roma non mi appassionano gli identikit, ritengo però un valore aver fatto politica nelle istituzioni. Ecco le parole anche su Roma, vedremo poi alcune suggestioni su Roma, ma insomma della Meloni. A questo punto ci sono due commenti di politica diciamo e che riguardano in particolare Salvini e il ruolo di Salvini, il primo è Postiglione sul Corriere della Sera, l'alibi, parentesi per tutti di Salvini, inizia in prima pagina e prosegue a pagina 28 dove noi andiamo a prendere un lungo articolo che non possiamo che sintetizzare e tra l'altro dice Postiglione a pagina 28 per l'appunto, anche adesso che Salvini non è il protagonista assoluto e l'alibi per restare immobili si è perduto, non possiamo consegnare l'Italia A, lo spauracchio ha contribuito a far nascere e vivere la coalizione di 5 Stelle, PD, Leo, Italia Viva e adesso dopo il virus e la chiusura, davanti a una prateria, un paese da riacciuffare e rimodellare che è un po' il sogno di ogni leadership del mondo si può scegliere la paura o lo slancio. L'alleanza però sta percorrendo la terza via, una lunga attesa tra vertici, annunci, riflessioni, stati generali e particolari, le incertezze del centro-destra e l'aiuto dell'Europa non hanno stimolato ma quasi per paralizzato la maggioranza. La coalizione contro non è diventata per o non ancora per gli ottimisti e neppure i due grandi temi del futuro, l'esplosione del digitale che abbiamo vissuto con la pandemia e la nuova sensibilità per l'ambiente, come dimostrano le elezioni in Francia, riescono a saldare o almeno ad avvicinare i 5 stelle e i democratici, sono argomenti cari alla sinistra e nel codice genetico dei grillini, però deve essere più divertente il litigare sul MES, gli alleati sono convinti che il nemico sia a disagio e allora prendono tempo, però qui a disagio c'è il paese stesso. Ma non è un gioco dire che Salvini è stato anche l'alibi di se stesso, la lotta più che il governo, la propaganda battente e permanente, il bagno di mare e di folla come cifra politica. Una stagione che forse è finita, da quando entrò nel Consiglio Comunale di Milano con 194 voti e Formentini sindaco a vent'anni nel giugno del 1993, Salvini ha vissuto quasi tutti i giorni in campagna elettorale e potrebbe essere un record mondiale, con la forza di prendere un movimento del nord per il nord e di trasformarlo nel primo partito italiano, ma anche con la difficoltà o impossibilità di tradurre gli umori, le proteste, le ansie in una vera proposta di governo in un'estate con meno piazze, meno spiagge, addirittura meno selfie, gli toccherà fare politica e cercare la centralità smarrita, se ne sarà capace. Questo postiglione sul Corriere della Sera a proposito di Salvini, ma a Salvini si dedica anche il direttore del Foglio, non è la prima volta che lo fa, Cerasa nella prima pagina, Salvini nella trappola della grotta e tra l'altro dice Cerasa, Salvini è ancora la vera e forse unica rock star della politica italiana, ma un anno dalla tragicomica estate durante la quale scoprì che ciò che sembrava essere amore e potere era invece solo un calesse, appare oggi come uno degli unici leader del centrodestra a non aver imparato dai propri errori. I serbatoi più fecondi del suo consenso si sono svuotati, pensate all'immigrazione, i suoi alleati in Europa hanno dimostrato di essere più pericolosi nemici dell'Italia, a fare a gara, a fare sovranisti, troverai sempre uno più sovranista che ti è pura. L'Europa matrigna contro la quale Salvini ha costruito buona parte della sua identità si è dimostrata essere meno matrigna del previsto, pensate al fatto che oggi Salvini chiede all'Europa non di fare meno ma di fare di più. Molte battaglie combattute negli ultimi mesi puntano a correggere errori commessi dallo stesso governo in cui si trovava Salvini, pensate alla prescrizione, e la stessa battaglia campale combattuta oggi contro il MES è una battaglia che il leader della Lega sta combattendo contro uno strumento, il fondo salva stati, modificato anche con il contributo del governo di cui Salvini faceva parte, chiede la Giovanni Tria. In circa 11 mesi di opposizione Salvini non ha dimostrato di saper imparare dai propri errori, ma in alcuni casi gli errori commessi li ha reiterati e moltiplicati. Ovviamente saltiamo, conclude così Cerasa, i suoi alleati Meloni e persino Berlusconi che in vista delle prossime regionali sono riusciti a nascondere Salvini e a puntare a un gran numero di candidati distanti dalla Lega in questo anno per ragioni diverse sono riusciti a cambiare pelle. Salvini è rimasto invece nella sua grotta e quando sabato chiederà al governo di dimettersi urlando ai 4 venti che è l'ora di votare si renderà forse conto che in un'Italia che cambia l'unico politico che non riesce a cambiare è quello che a forza di tentare spallate si ritrova sempre con maggior frequenza con molte spalle lussate. Questo è quello che scrive Cerasa e possiamo chiudere anche il capitolo del centrodestra con questo. Allora vediamo il tema delle regionali, l'abbiamo visto prima sul Corriere della Sera, vediamo anche La Repubblica, pagina 6, che cosa ci dice? L'appello di Conte per rifucire con il PD un itale regionale. Dopo settimane di tensioni il premio del Conte a Zingheretti non si impegna sul Messe ma per la prima volta incalza il Movimento 5 Stelle senza intese sarebbe una sconfitta pure per me e segnalo che sul Corriere della Sera a proposito di questo c'è anche la reazione dei 5 Stelle, un'apertura che irrita i 5 Stelle, ci dice Alessandro Trocino, come gli salta in testa? No alla linea su accordi locali e supporto di Forza Italia e dice tra l'altro Trocino preoccupano anche le parole sul Messe, Conte è passato dal no a un valuteremo e questa è la situazione per quanto riguarda le parole di Conte così come vengono interpretate dalla Repubblica ma a proposito di regionali invece c'è una notizia, un sondaggio che viene pubblicato dal Sole 24 Ore a pagina 6 riguarda il governatore della Campania De Luca, cioè il candidato De Luca, il titolo a pagina 9 del Sole 24 Ore è De Luca al 65% pesca voti anche da Lega e Movimento 5 Stelle. C'è il sondaggio di Whirlpool Arcadia, il governatore Semina, Caldoro e Ciarambino, il 56% di chi ha votato Lega alle europee e il 49% del Movimento 5 Stelle è pronto a votare per lui e qui scrivere è Roberto Dalimonte che è anche quello che ha fatto il sondaggio e quindi le percentuali che vengono date in base alle intenzioni di voto è a De Luca il 65,4%, a Caldoro il 21,9%, a Ciarambino il 10%, ad altri l'1,8% e De Luca prende l'87% dei voti del Partito Democratico, il 49% dei 5 Stelle, il 56% della Lega, il 36% di Fratelli d'Italia, il 45% di Forza Italia. Poi se volete le intenzioni di voto alle liste, obiettivamente mi sembra un pochino azzardato, però io comunque vi do questi numeri, lista civica per Caldoro 2,7%, Lega 10,7%, Fratelli d'Italia, tenete conto che la Lega all'Europea ha preso quasi il 20%, Fratelli d'Italia il 10,5%, Forza Italia l'8,2%, il Movimento 5 Stelle 21,7% e qui è abbastanza singolare, ma in base a quello che dice Dalimonte è che una parte consistente dei voti dei 5 Stelle che alla lista vanno ai 5 Stelle e poi vanno invece a De Luca, perché qui se fate la differenza il candidato dei 5 Stelle prenderebbe il 10,9% e i 5 Stelle avrebbero il 21,7%, cioè la metà dei voti dei 5 Stelle andrebbero per l'appunto a De Luca, ma andiamo avanti, le liste civiche di sinistra prenderebbero l'1,1%, Italia viva di Matteo Renzi lo 0,9%, Azione di Carlo Calenda lo 0,8%, I Verdi l'1,2%, le liste civiche per De Luca il 19,8%, il Partito Democratico il 21,3%, altri l'1,1%. Vabbè, questo è quello che ci dice il sondaggio del Sole 24 Ore, non sappiamo quanto attendibile, ma non perché è quello del Sole 24 Ore, perché già in generale sapete che io sono abbastanza diffidente dei sondaggi in generale che in questo paese hanno mostrato la corda più volte, ma soprattutto in un periodo come questo, ma avete sentito che nell'ambito dei ragionamenti c'è il tema della riforma elettorale e allora vediamo cosa dicono i giornali, a pagina 3 il leader PD, riforma elettorale o regaliamo l'Italia a Salvini, timori della crisi in autunno dopo il voto di settembre ed è Ilario Lombardo che firma questo retroscena e dice la riforma del sistema di voto è impegno su cui è nato questo governo, sono le parole di Zingaretti, Andrea Orlando che dice incardinare la legge in uno dei durami del Parlamento ci mette al riparo, insomma per Franceschini fino al voto di settembre non ci saranno scossoni definitivi, questo è quello che ci dice Ilario Lombardo, qualche giornale mette in evidenza i dubbi che sono stati espressi ieri da Marco Di Maio e da Ettore Rosato di Italia Viva con una considerazione che non è proprio così campata per aria e che diciamo che non sembrerebbe che questa sia la priorità e l'urgenza in questo momento ma magari la priorità e l'urgenza sono quelle di fare in modo che i prossimi provvedimenti del governo siano un po' più efficienti quanto no dal punto di vista dei tempi di attuazione di quanto non siano stati quelli prima e poi di immaginare e mettere in piedi dei provvedimenti, pensate ancora i problemi che ci sono sul decreto semplificazioni, ma appunto se voi guardate la strategia che è Stefano Canettieri e credo Emilio Pucci penso sul messaggero, legge elettorale accelerazione ed eme per avvertire Italia Viva e Palazzo Chigi, dice il Nazareno vuole arrivare ad approvare il nuovo testo in concomitanza con il referendum e sul tavolo un proporzionale con sbarramento al 5%, Movimento 5 Stelle e Forza Italia va bene, allarme di Renzi e Lega. Non si parla di Fratelli d'Italia che ieri ho visto delle dichiarazioni, annunciava su questo una durissima opposizione e con tutti i decreti, con tutte le cose che ci sono posso immaginare se Fratelli d'Italia su un provvedimento che non è contingentato in prima battuta e quindi consente sicuramente di poter intervenire, poi sulla legge elettorale c'è una particolare procedura prevista dal regolamento e poi aggiungiamoci che ci sta il voto segreto quando si vota sulla legge elettorale, quindi non la vedo semplicissima, ma vorrei leggervi a proposito di legge elettorale la rubrica di Mattia Feltri sulla stampa in prima pagina nel buongiorno che dice dai che ci riproviamo, è la nostra grande chance, premessa, come succede ogni due o tre settimane in Italia si ricomincia a parlare di riforma della legge elettorale. Capito Europa? Voi che volete le riforme, questa la faremo, statene certi. È un tipo di riforma in cui siamo all'avanguardia mondiale, ne sforniamo una al biennio. Ora per esempio c'è il Rosatellum bis, perché si chiami bis e lo ignoro, ma dà il senso del lavorio. Prima c'era l'Italicum, peraltro mai usato, noi facciamo le riforme anche se poi non le usiamo. Non c'è verso, noi riformiamo, è più forte di noi. Prima dell'Italicum c'era il Porcellum, ne andiamo ancora orgogliosi, e in origine c'era il Mattarellum. Ecco, anticipando l'avvio dei dibattiti fiammeggianti intorno a un Dimaniellum o un Zingarettiellum, o che so, un Toninellum, suona bene però dice Feltri, noi riproviamo con il Butanellum, il magico sistema elettorale del Butan. Funziona così, al primo turno si presentano tutti i partiti senza candidati, solo col simbolo. I due partiti con il maggior numero di preferenze accedono al secondo turno, ognuno con 47 candidati in 47 collegi. Chi ne vince almeno 24 ottiene la maggioranza e governa, e ci si rivede fra 5 anni. Certo, è una legge scritta in otto righe, quasi un affronto per noi, funamboli dello scorporo della quota maggioritaria, delle liste bloccate, del ripescaggio proporzionale, dei metodi Dante, Aaron e Neymar. Se per caso, anche stavolta, l'idea non piacesse, chiediamo in subordine di affidare la pratica alla grillina Paola Taverna. Non peraltro, è che ne uscirebbe un nome particolarmente caratteristico, il Tavernellum. Questo è Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa a proposito della legge elettorale. C'è l'Europa ancora, perché ingombra, ci aiuta, ci sollecita, ci tiene così, insomma, svegli. Eh sì, e lo vediamo a pagina 22 della Repubblica, anzi sono due pagine, la 22 e la 23, sconti ai paesi del nord per salvare i recovery fund, pronta la proposta del Consiglio Europeo, restano i 750 miliardi, ma più tagli al bilancio è l'inviato d'Argenio della Repubblica. E poi a pagina 23, Merkel e von der Leyen, intesa entro l'estate, così ripartirà l'economia. Ogni giorno che passa rischiamo che si perdano posti di lavoro, che imprese falliscano. Sappiamo tutti che la risposta a questa crisi dovrà essere poderosa, è quello che dice Angela Merkel, quello che abbiamo detto prima, invece l'aveva detto la von der Leyen, è questo sulla Repubblica. Il messaggero, a pagina 11, sempre su questo tema, recovery fund, si tratta sui tempi e bilancio UE, pressing di Merkel e von der Leyen per un accordo entro la fine di luglio, la cancelliera convoca il vertice dei quattro presidenti, gentiloni attenti a riattivare il patto di stabilità. Questo è sullo sfondo, perché è chiaro che prima o poi questo patto di stabilità inevitabilmente dovrà essere riattivato. A proposito di Europa, segnalo un'intera pagina dell'insert del foglio, che nella fattispecie è la pagina 4, che ci arriviamo, spero, eccoci qua, si al messe per un'Italia adulta, tutte le balle sulle condizionalità, il boomerang del riviare scelte urgenti e poi qualche idea su come spendere i soldi europei. Manifesto, anche con Tria e Padoan, per il sì al messe. Sono Fabrizio Pagani e Fabio Pamolli che scrivono sul foglio l'intera pagina 4 del foglio, che è la pagina dell'inserto. C'è anche l'avvenire da segnalare a pagina 6, a questo proposito, che la mette così. Non c'è più tempo da perdere il pressing in videoconferenza di Merkel e von der Leyen per un accordo entro l'estate sul piano del rilancio. L'8 luglio, vertice dei presidenti delle istituzioni UE. Charles Michel lima la sua bozza per sbloccare l'intesa e peraltro appunto c'è Gentiloni, qui viene messo in un'audizione, che dice non avere fretta sul patto di stabilità. Bene, segnalo per concludere questo argomento. Sul Corriere della Sera, Manca, che scrive a pagina 11 il piano che non c'è, tra l'altro scrive Manca. Ora, queste settimane e mesi trascorsi a discutere del Fondo Salva Stati, dimenticando che si tratta di un trattato firmato anche dal nostro Paese, ne dà la dimostrazione. L'ansia di voler sempre rimettere in discussione quanto fatto dai governi precedenti. L'alimentare e il clima di sospetto nei confronti dei nostri partner. Gli errori fatti dagli altri Paesi che immediatamente diventano complotti. Le esitazioni nel decidere. Ma si crede davvero che i cittadini, le famiglie, le imprese, l'Italia abbiano questo continuo bisogno di essere sollecitati a mobilitarsi contro nemici veri o immaginari? Dovete davvero, si pensa, che il nostro agire sia al centro di ogni pensiero che passa per quelle che un tempo si chiamavano le cancellerie europee? Facciamone su una ragione. Se non vogliamo prendere le linee di credito molto vantaggiose che il MES è pronto a erogare, nessuno in Europa si farà il sangue amaro. Tranne farsi l'idea che forse non ne abbiamo bisogno, o che non crediamo a quanto stabilito dall'Eurogruppo che è un organismo formale e che ha stabilito che non ci saranno condizioni. Si spera forse che le decine di miliardi che arriveranno con il recovery plan non sono anch'esse condizionati? È un'illusione. L'Italia, come i suoi partner, ha il diritto e il dovere di sindacare su come vengono usati i soldi dell'Europa e viceversa a volte dimentichiamo che l'Europa siamo anche noi. Oggi capiremo se lo saremo anche nel rispettare le scadenze. Questo è quello che scrive Manca sul Corriere della Sera e chiudiamo anche il capitolo dell'Europa. Invece segnalo il capitolo delle nomine che è sicuramente un altro capitolo robusto per il governo. È il tempo a pagina 7. Guerra in corso per le nomine. Movimento 5 Stelle e PD lottano per i posti delle società pubbliche. Per CONSAP in corso è il duo Masi-Peruzzi. Marchese verso la Zecca, se perde la sfida per via IA di Iser, balla la poltrona di Cannarza alla CONSIP e spunta l'ombra di Arcuri. Questo è quello che ci dice il tempo a proposito delle nomine. Per quanto riguarda adesso la politica vorrei segnalare poche cose. Abbiamo già visto il centro-destra e il centro-sinistra. Vediamo alcune cose di politica generale. Uno è Fabrizio Roncone su Corriere della Sera, pagina 6, che parla nel primo piano della ripartenza agli equilibri. Il titolo è Nel Succa di Palazzo Madamata, chi cerca un posto migliore. C'è tutta una tambella con i cambi di gruppo che ci sono stati. Poi dice Roncone, nell'occhiello, le voci sui forzisti e sui 5 Stelle pronti a cambiare fronte, i leghisti rivelano, in tanti chiedono di venire con noi. Questo sul Corriere della Sera. A proposito dei cosiddetti cambi di casacca, nei quali vengono messi anche Renzi e tutti i senatori di Italia Viva, che mi sembra obiettivamente un po' una forzatura, perché lì si è trattata di un'operazione politica che non era un senatore che andava da una parte all'altra. E poi comunque abbiamo già visto che questo accade tante volte, è anche figlio di una cosa che io difendo moltissimo, che è l'assenza di vincolo di mandato, per cui poi sono i senatori che decidono. Vorrei segnare a proposito di suggestioni sindaco di Roma, è quello che vi dicevo all'inizio, che il tempo la mette così, Franceschini l'antiraggi. Il PD torna a pensare al ministro dei beni culturali come candidato sindaco di Roma nel 2021, lui per ora è tiepido, ma l'ingresso al governo di Zingaretti potrebbe cambiare le carte in tavola, coinvolgendo anche il Lazio. Questo è quello che ci dice il tempo. a proposito di Franceschini, segnalo sul foglio due articoli che riguardano la possibilità di un governo con dentro Forza Italia, e ci sono due articoli, uno di Di Sanso che parla di Forza Italia, Forza Governo, il corteggiamento del Cavaliere è iniziato, nuova maggioranza le viste, i deputati di Forza Italia dicono di sì, e poi i renziani dicono di sì, e invece Caruso che dice un nuovo governo con Berlusconi si può fare, parole e umori nel gruppo parlamentare di Italia Viva, presumo gruppo parlamentare al Senato, ma comunque a me nessuno mi ha chiesto nulla, ma questo è davvero poco rilevante. A proposito di politica, e chiudo con questo, c'è un articolo a bisognaro di Cacciari sulla prima pagina della Repubblica a ricostruire il ceto medio, che continua a pagina 27, è un articolo molto lungo e anche molto complicato, perché si conclude però così. Dice, è realistico, anzi doveroso, perciò interrogarsi se il disegno del socialismo liberale possa ancora valere in assenza di quella cultura politica la quale esplicitamente si richiamava, e cioè in assenza di quella borghesia che voleva essere nella realizzazione interprete. È sufficiente volgersi intorno per vedere che essa non esiste più. Gli attuali parlamenti, non solo in Italia, sono lo specchio clamoroso della sua scomparsa. Rimane l'idea, non vi è più chi possa incarnarla. Chi doveva incarnarla è stato spazzato via dalla ricomposizione di classe che la globalizzazione ha imposto e dalla prepotente affermazione di un capitalismo politico all'interno dei grandi imperi, ma forse, prima ancora e soprattutto, dal crollo del peso economico e politico del ceto medio. La cultura del socialismo liberale si fonda sulla crescita costante, non solo quantitativa, di quest'ultimo, e si appella alle speranze che lo animano. È un'intera generazione che le nostre democrazie procedono in senso opposto. Il ceto medio crolla nella distribuzione del reddito e nelle sue attese di promozione sociale. Che una simile situazione possa produrre volontà politiche e seri progetti di riforma, che una perdita complessiva di status del ceto medio possa sfociare in nuove forme di organizzazione, superando la fase demagogico-protestataria, è pia illusione. Essa produce i Trump, non i Brant, non i Mitterane, neppure i Cole, perché si possa ridare un senso al socialismo liberale. Occorre dunque superare la stretta, passare per le crune lago e cioè invertire la impetuosa corrente della proletarizzazione del ceto medio. La crisi che attraversiamo e dentro a cui vertice ci troviamo tra qualche mese, ha accelerato drammaticamente questa tendenza. I provvedimenti che si prenderanno in autunno suoneranno, temo l'ultimo appello, o il governo sarà in grado di pensarli nel contesto storico che mi sono sforzato di indicare, o non soltanto svanirà ogni possibilità di dare un senso al socialismo liberale, ma irreversibile diventerà la crisi della nostra stessa democrazia rappresentativa. Questo è un ragionamento che fa Cacciari sulla Repubblica. Bene, con questo possiamo chiudere la politica e adesso vi ho parlato dell'anticorruzione. C'è stata ieri la relazione del Presidente Merloni, ce ne parla Libero a pagina 13, che la mette così. Ovviamente non è pagina 13, chissà quale sarà. Ah sì, sì, scusatemi. È sufficiente un abbacchio per corrompere uno statale. Tante miserie nel rapporto dell'anticorruzione aumentano le segnalazioni di illeciti e dei dipendenti pubblici. Ormai le tangenti sono un baratto. Ci si vede per un lavoro a casa o per qualche buono benzina. Questo è il Libero, ma anche il Messaggero a pagina... scusate, l'Avvenire a pagina 7, lo vediamo subito. Il titolo è e il Covid a bloccare gli appalti. L'ANAC sul modello Genova non è senza regole che il sistema funziona meglio. Secondo i dati presentati ieri nel 2019 il valore delle gare è cresciuto del 23%, ma nel primo quadrimestre del 2020 siamo a meno 33. Ecco, vedete che l'Avvenire la prende da un'altra angolazione, la relazione dell'ANAC e se volete c'è anche il Sole 24 Ore che dà un taglio di questo tipo a pagina 5 appalti 23 miliardi pronti a partire dalla fase post-Covid. Dice l'ANAC si tratta di procedure già perfezionate al 90%, persi 19 miliardi nel 2020, l'autorità contro il decreto legge e semplificazioni deregue generalizzate sono caos. Merloni dice è grave sottovalutare la corruzione e questo per quanto riguarda la relazione ieri dell'autority contro la corruzione. Ovviamente non possiamo non toccare il tema giustizia, è sempre Berlusconi e le vicende del suo processo che la fanno da padrone. A pagina 17 del Corriere della Sera segnalo Berlusconi valutiamo l'appello la Unione Europea affronta la polemica sulle toghe, la denuncia di esposito contro tre dipendenti di un hotel di Ischia che lo accusavano e peraltro questo a scrivere questo è Virginia Piccolillo mentre nel taglio basso c'è un ritratto fatto da Tommaso Labate di chi? Di Cosimo Ferri Ferri il terzo uomo a Palazzo Grazioli il deputato Renziano era per tutti virgolette il geco presente all'incontro tra il leader di Forza Italia e Franco questo è quello che ci dice il Corriere della Sera con Tommaso Labate bene andiamo avanti perché anche il giornale come è tutto evidente si occupa di questo e in particolare a pagina 8 una sentenza di condanna completamente inventata stiamo parlando delle parole di di docente in Brembo del CSM stronca il verdetto del 2013 la Cassazione assurdità giuridica mai viste però non riesco a capire Alessio Lanzi ecco qui docente universitario di diritto penale oggi membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura e poi a pagina 9 Luca Fazzo invece firma l'articolo il caso ha commesso illeciti le doghe rosse linciano il magistrato defunto magistratura democratica avanza sospetti sul giudice relatore del processo al CAV il teorema di Caselli questo è quello che scrive il giornale nella pagina 9 chi sicuramente oggi dà più spazio a questo invece è Libero che lo fa in prima pagina il titolo è difendere Silvio diventa un reato e poi prosegue nella pagina 2 la vendetta dei manettari se difendi Berlusconi ti caluniano ti indagano testimoni rivelano l'odio anti-CAV del magistrato che lo giudicò interviene un PM e sulla toga che ha raccontato il complotto si ripescano false accuse già archiviate poi nel taglio basso ci sono le firme che sono state raccolte per chiedere che Berlusconi sia fatto senatore a vita e poi però Alessandro Giulini nella pagina 3 prende di petto l'ex presidente della Repubblica napolitano il titolo è napolitano ora parli ebbe un ruolo nella condanna è il momento di fare chiarezza l'audio del giudice Franco chiama in causa l'ex presidente confermando vecchi retroscena e adesso non c'è più la ragione di Stato a impogli il silenzio e poi c'è Vittorio Feltri che firma il suo corsivo e sono contrario al seggia vita ma Silvio lo merita va bene questo è quello che ci dice è libero nelle pagine nella pagina 1 2 e 3 ma anche a pagina 13 va segnalato no ho sbagliato ah no 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 invece è il riformista con cui chiudiamo il capitolo che riguarda Berlusconi e qui c'è un po' di tutto intanto c'è Paolo Comi in prima pagina così il CSM strapazzò il diritto e perdonò esposito il procuratore generale chiese la censura segnalo una lettera di Berlusconi al riformista che si intitola non chiedo risarcimenti ma voglio la verità e ancora invece c'è Umberto di Giovannageli che intervista Macaluso che tra l'altro con un richiamo in prima pagina ha l'unica voce a sinistra che sfida i PM e dice processo a Berlusconi va fatta chiarezza segnalo al riformista che diciamo più di uno ha detto la stessa cosa compreso Matteo Renzi nei giorni scorsi e diciamo capisco che si fatica magari a inserirlo nella sinistra però il grande vecchio della sinistra è uno dei pochi che non ha paura di esporsi dopo lo scoop del riformista ma avverte c'è una condizione fondamentale uscire dalla propaganda e dalle posizioni precostituite ha assolutamente ragione Macaluso e nel taglio basso Maria Antonietta Coscioni ricorda quando Pannella incontrò Berlusconi per quando presentarono nel 2013 il referendum sulla giustizia e il titolo è quando Pannella gli disse caro Silvio vai in esilio l'incontro nel 2013 a Via della Panetteria si discuteva dei referendum radicali e Marco diede questo suggerimento c'è un accanimento mai visto ma se volete poi ci si occupa anche di Palamara ed è Alberto Cisterna che è a pagina 3 del riformista è la caporetto delle toghe ma la politica non sa che fare forte la tentazione di sperare che tutto passi che si continui con uno scontro a bassa intensità ma questa volta potrebbe ingaggiarsi una battaglia decisiva per le sorti del conflitto istituzionale e politico che si consuma sui temi della giustizia poi se volete ancora Paolo Comi riprende quello che abbiamo letto in prima pagina e poi ci sta la lettera di Berlusconi e poi ci sta Sanzonetti che firma quest'articolo a pagina 5 partito PM un po' più della P2 un po' meno del circolaniene Licio Gelli contava poco perse e fu travolto loro hanno vinto e ora che sono stati scoperti sono diventati più arroganti di prima hanno il potere di sbatterti in galera senza che nessuno possa fermarli questo è quello che dice tra l'altro Sanzonetti e poi riferito alla sinistra dice la sinistra ha secondato il giustizialismo e le lobby dei magistrati e così ha aiutato l'estrema destra a battere i liberali è ora tace imbarazzata questo sul riformista e con questo chiudiamo anche il capitolo giustizia però ci sono due questioni che riguardano la giustizia una la segnalo sul Corriere della Sera a pagina 21 e si tratta della vicenda relativa alla Moby Prince la petroliera era nella zona vietata lo studio sulle immagini satellitari a 29 anni dal disastro con 140 vittime i familiari chiedono ancora giustizia a proposito della Moby Prince ed è Marco Imarisio invece c'è un altro tema che che riguarda vicende insomma che sono ancora ferite grandi è quello della Thyssen e ce ne parla la stampa a pagina 13 villetta padel e lavoro in Thyssen la vita dei manager della strage ieri uno dei due dirigenti dell'acciaieria torinese è andato in carcere in anticipo la detenzione doveva iniziare il 15 luglio parla la moglie dell'ex amministratore delegato in questi anni ci hanno detto di non parlare non abbiamo solo obbedito noi abbiamo solo obbedito questo per quanto riguarda la Thyssen ma a proposito delle vicende di questo paese invece più oscure segnalo sul messaggero la notizia a pagina 16 che il senato ha proceduto con la desecretazione e il titolo del messaggero è da Ustica a Casomoro il senato solleva il primo velo sui misteri italiani desecretati gli atti delle commissioni parlamentari fino al 2001 la Casellati dice il giorno della verità storica ma resta il segreto di stato il presidente di Palazzo Madama e i familiari delle vittime hanno diritto alla piena chiarezza questo è quello che ci dice il messaggero che poi c'è anche la notizia che sui fondi alla Lega e al Partito Democratico la procura chiede il processo per Parnasi e credo anche per Centeno e Bonifazi questo è quello che ci dice il messaggero ovviamente vedremo gli sviluppi di tutto questo passiamo ora ad altri argomenti restiamo sempre su questioni molto delicate che sono ferite per il nostro paese una è sicuramente quella che riguarda Reggeni a questo proposito voglio segnalare il Corriere della Sera pagina 18 che titola Reggeni dal Cairo nessuno aiuta i PM vogliono arrivare all'archiviazione da Roma indagati altri 5007 e il presidente Figo che dichiara lo vediamo peraltro il presidente Figo intervistato sulla Repubblica su questo a pagina 9 e Figo dice sul Reggeni cazzotto dall'Egitto Conte frena Di Maio il presidente della Camera chiede al governo una risposta veloce ma il premier predica cautela sul richiamo dell'ambasciatore e poi anche qui si dice questo era Tommaso Ciriaco e poi Giuliano Foschini dice che altri 5 nomi nell'inchiesta ci sono i vertici di Polizia e 007 questo per quanto riguarda Reggeni ma invece una cosa positiva è avvenuta ce lo dicono tutti i giornali ma il Corriere della Sera addirittura nelle prime pagine successive alla prima la sedue la tre e cioè Imarò spetta l'Italia a giudicare Imarò la svolta all'Aia dopo 8 anni l'India cesserà il procedimento ma la corte chiede Roma risarcisca Deli per la morte dei due pescatori e poi c'è anche l'intervista ora finalmente liberi la gioia di Girone e la torre i due fucilieri torneranno a parlarsi ci era stato vietato questo sul Corriere della Sera a proposito dei Marò guardiamo altre questioni la scuola rapidamente mi rimane poco tempo la scuola pagina 14 del messaggero che bisogna dire la verità è sempre molto attento ai temi della scuola il titolo dell'articolo di Lorena Loiacono a pagina 14 è la scuola post covid sulle spalle dei presidi ma tagli agli stipendi il MEF blocca l'integrazione di 10 milioni di euro al fondo unico nazionale per il 2019 la protesta provocazione fino a 1700 euro in meno all'anno questo sul messaggero a proposito della scuola allora occupiamoci adesso delle donne in particolare del segnalo la Repubblica due pagine la pagina 10 e la pagina 11 parità di genere un test certificherà le aziende virtuose la ministra Bonetti lancia la proposta di un indice di inclusione pronta a garantire sgravi e incentivi alle imprese che lo adotteranno e nella pagina 11 c'è la Giannotti che sapete è la direttrice generale del CERN nella task force del governo e dice scienza decisiva per emancipare le donne così ho deciso di aiutarle Luca Fraioli che la intervista ma allora se parliamo di donne dobbiamo occuparci anche del tema dell'aborto perché la stampa ci dice che a pagina 9 c'è stata una protesta perché troppi obiettori aborto a rischio riparte la battaglia delle donne il caso Umbria sul ricovero obbligatorio rilancia le proteste ieri appunto manifestazione a Roma due questioni che riguardano il lavoro le aziende per quanto riguarda l'ILVA e la Repubblica a pagina 6 che ci dice che prima mossa per nazionalizzare l'ILVA e cambia la norma sull'abuso d'ufficio nel decreto rilancio e semplificazioni l'emendamento del PD 470 milioni in Invitalia pronti a investire nella acciaieria e poi se volete c'è anche invece una cosa molto triste tra virgolette nel senso che bisogna reagire ma è quella che riguarda Weirpool perché a pagina 24 la Repubblica ci dice che Weirpool il governo si rassegna la fuga di Weirpool Patonelli dice c'è un piano B Invitalia in 4 per la reindustrializzazione i sindacati basta con soluzioni dubbie questo a proposito di Weirpool bene politica estera molto rapidamente Libia segnalo l'avvenire in prima pagina che ci dice ecco i fondi segreti dati ai sindaci libici alle municipalità e ai capi bastone 18 milioni per ospedali e opere urbane non realizzati questo a proposito della Libia la Turchia il Corriere della Sera che ce ne parla con Erdogan alle prese a pagina 19 alle prese con Santa Sofia è Santa Sofia che Erdogan vuole moschea da Basilica a Museo tra i più visitati al mondo ora il presidente turco intende destinarla ai musulmani la stampa ci parla della Bielorussia anche qui la situazione non è semplice a Minsk la rivolta della Pantofola contro l'ultimo dittatore d'Europa in Bielorussia cresce la protesta per cacciare Lukashenko al governo da ben 26 anni e che ora punta al sesto mandato il despoto arresta i dissidenti e soffoca l'opposizione ma la crisi economica e il coronavirus minacciano la sua popolarità e allora dalla Bielorussia passiamo alla Russia ed è sempre la stampa a cui dobbiamo fare riferimento e a pagina 17 ci dice Putin gonfia i consensi per sentirsi grande Anna Zafesova dalla Russia a proposito del referendum cosa succede in Iran ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 23 e cioè Iran misteriosa esplosione nella centrale nucleare di Natanz incidente o sabotaggio le rivendicazioni dei ghepardi della patria gli USA dicono Tehran accumula tecnologia ancora va richiamata l'attenzione sul Venezuela e la Repubblica a pagina 19 che dice gli Ayatollah nei Caraibi e la benzina a sostegno di Maduro la missione di 5 navi che hanno trasportato un milione e mezzo di barili Molest Naim ci dice ci parla del Venezuela e appunto è l'Iran è uno dei pochi paesi che può sfidare gli USA commerciando con Caracas e il Venezuela ha subito anni di saccheggio dell'industria nazionale dell'egregio bene questo per quanto riguarda il Venezuela e chiudiamo non perché sia meno importante ma perché invece è una situazione molto difficile quella di Hong Kong ma il tempo sulla prima pagina da questa lettura li abbiamo venduti è la foto di copertina del tempo di prima pagina da giorni Pechino sta soffocando la libertà e la democrazia a Hong Kong il mondo si ribella l'Italia non batte un colpo la solita sinistra protesta solo se è gratis vedi America ma davanti allo strafotere comunista china il capo vorrei fare soltanto presente che insieme ad alcuni senatori e parlamentari anche per esempio del Partito Democratico ma non solo trasversali abbiamo preso una posizione solo l'altro giorno nella sala della Siria del Senato esattamente su questo non solo su questo ma anche per esempio rispetto a tutte le violazioni che la Cina fa nei confronti degli uguri ma vabbè questo purtroppo il tempo non è detto che lo debba sapere con questo io chiudo la rassegna stampa e ricordo a tutti che domani la rassegna stampa sarà alle sarà alle nove e non alle sette e mezza così come domenica mentre invece al lunedì riprenderemo alle sette e mezza grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti